Padre Stefano Gorla, direttore del giornalino, ma è novantennale rivista italiana per ragazzi, per bambini, è qui al Festival Francescano 2014 per presentare un libro per bambini dal titolo Storie del Topo Jorge del Papa che diventò suo amico, edizione di Terra Santa di quest'anno, però è un secondo volume questo. Sì, è un secondo volume, il primo volume l'abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo fatto incontrare Topo Jorge con Papa Francesco, Il mistero del Natale era il sottotitolo, quest'anno il libro che esce invece è Il mistero di Gerusalemme, sono sempre misteri che mettono insieme questi due amici che sono appunto questo Topo, Topo Jorge e Papa Francesco. Tu hai curato i testi di questo volume ma invece i disegni sono stati realizzati da chi? Sì, io ho scritto i testi, ho inventato i personaggi e poi Ivano, uno splendido disegnatore, ha illustrato questi due libri. Questo volume è stato presentato al Papa, mi dicevi? Sì, abbiamo avuto questa occasione il 18 di dicembre del 2013, siamo andati in Piazza San Pietro dopo l'udienza e gli abbiamo dato il libro dicendo Santità scusi ma l'abbiamo fatto parlare con un Topo e lui quando ha capito bambine e cose si è divertito abbastanza e ha preso il volume, ci ha ringraziato e ci ha chiesto come chiede sempre a tutti di pregare per lui. Allora nel secondo volume abbiamo messo il Papa che insegna al Topo a pregare in modo che possa portare anche questa dimensione a preghiera alla comunità dei topi di Roma. Qual è il messaggio di questi volumi? Ma sostanzialmente utilizziamo l'idea di questo topino, quindi di un piccolo che ha tutta una serie di timori in una grande città come Roma e che scopre che Gesù si interessa a lui attraverso la mediazione di Papa Francesco. La prima volta che vieni al Festival Francescano conoscevi questa esperienza? Conoscevo l'esperienza ma è la prima volta che ci partecipo e è una bella esperienza. Grazie a tutti.